Musica Musica Che datemi una mano ad avere ciocchi era mio Iscrizione gratis Iscrizione gratis al canale E campanellina Finalmente una bella serata Ma in Champions diciamo che Ci hanno abituato bene Perché Lo hanno sempre detto tutti Non io Il gioco di Zaghi è molto più adatto Diciamo alle coppie che al campionato Che alla lunga maratona Dove alla fine Nella maratona vengono fuori molto di più i pregi E i difetti Nelle partite secche Puoi nascondere Tante cose ma Alla stessa maniera devi essere molto bravo Perché non è facile L'Inter Ha Ha fatto un'impresa Per come la vedo io Perché ci davano tutti Quei spacciati Io Io per primo Non credevo assolutissimamente Al passaggio del turno L'Inter ha fatto fuori Barcellona E poi Va In Germania E prende tre pere Con un allenatore Scarzo Xavi Sei scarso Che ha una difesa Scricchiolante Che si basa Sul ragazzino A centro campo Che ora non ricordo Di cui non ricordo il nome Ma è comunque Era comunque Un Barcellona È comunque un Barcellona Forte Con giocatori importanti Ma Xavi è un allenatore Scarzo Ed è giusto Ciao Xavi Taci bene Che tu vada a casa Perché Abbiamo strameritato noi Di passare il turno Per quanto riguarda La partita di ieri Ad un certo punto Schalanoglu Bastoni Acerbi Perdono Perdono la palla In una zona del campo Molto pericolosa Come diceva Anche il mio amico Michele Loro cosa fanno Non ne approfittano E ti ridanno la palla Quindi da lì Capisci Il livello Dell'avversario Un avversario Modesto Anche se Le partite di Champions Non sono mai facili Comunque All'inizio ci sono state Un po' Diciamo Un po' di errori Difensivi Molti Perché poi sai Ti fanno gol Riappaiono tutti i mostri Capito Ti riappaiono tutti i mostri In avanti L'Inter poi alla fine Con uno stadio pieno È stata brava A diciamo Non a reagire Ma a mettersi un attimino A posto E a creare Palle gol Su palle gol Su palle gol L'Inter ha macinato Tantissime palle gol Lautaro e Di Marco Su tutti Per come la vedo io Quindi Diciamo Quattro pere È a casa Molto importante Molto importante Ragazzi È il gol di Lukaku Perché i centravanti Vivono di quello Soprattutto Eh Un giocatore Eh fragile A livello emotivo Come Romelu Perché Romelu È un giocatore fragile A livello emotivo Il gol Per lui vale triplo Quindi speriamo che Eh gli faccia accelerare Il processo di inserimento Perché ancora Romelu Eh prima di farsi male Si doveva inserire Stava giocando In una maniera diversa Rispetto a Parrucca Anche rispetto a Tuscel No Speriamo che Izaghi Capisca bene Come sfruttarlo Perché Lukaku e Lautaro Soprattutto in Serie A Non ce l'ha nessuno Ma anche in Europa Ci hanno dimostrato Eh comunque Ci hanno dimostrato Che comunque Si possano far valere Anche in Europa No Questi due ragazzi Che Si completano Alla perfezione Ma soprattutto Per un motivo Si completano Alla perfezione Indipendentemente Dalle caratteristiche Che hanno Si completano Perché si rispettano Tanto Si stimano E stimandosi E rispettandosi Capito Questo ti crea Un connubio perfetto Tra i giocatori Perché quando tra i giocatori C'è rispetto Sei già un bel pezzo In là Mentre quando i giocatori Si si mandano A quel paese L'uno con l'altro Vai da pochissime parti Quindi Io ho conto tanto Sulla Lula ragazzi Vi dico la verità L'importante è far arrivare Il pallone lassù In cima Perché Se sono tutti e due Al 70% Della condizione Soprattutto in Italia Lasciamo la Lasciamo perdere la Champions Che ora Si alzerà ancora di più Il livello Per quanto riguarda Il campionato italiano Te banda la palla lassù Poi dopo ci pensano Quei due Non ce l'ha nessuno Due attaccanti In quella maniera Ecco perché io Credo Ancora Nella rimonta Ci credo Perché l'Inter Davanti a due giocatori Possano fare 50 gol E l'Inter Cosa ti sta dimostrando Ti sta dimostrando Che prende tanti gol Ma che ne fa anche tanti Se ti aggiusti Inzaghi Un attimino La difesa Visto che a fare gol Non abbiamo grandi problemi No? E visto che soprattutto Quest'anno abbiamo anche Il centro avanti E ci dà quella profondità Che tanto ci è mancata L'anno scorso Il campionato Secondo me possiamo fare Molto Ma molto Bene In più Per quanto riguarda Il discorso tattico Quante volte ormai Vengono a schermare Brozovic Quindi ti bloccano La fonte di gioco E te sei un attimino Del gatto Mentre l'anno scorso Ti schermavano Brozovic Ma il gioco Si spostava tutto Sulla sinistra Perisic Perché Perisic Era comunque Un esterno A tipio E ti portava la palla Dall'area nostra All'area loro Cosa che nessun esterno Ad oggi Nell'Inter È in grado di fare Quindi A maggior ragione Con Lukaku Non avendo più La possibilità Di spostare il gioco A sinistra Hai comunque La possibilità Del lancio lungo Dove Lace è Lukaku Che apre Che apre Diciamo le braccia Alla Ibrahimovic E ti tiene la palla Chi meglio di Onana Può fare i lanci lunghi A Lukaku Quando sei in difficoltà E ti vengono a pressare Ecco perché Romelu Secondo me Sarà fondamentale Soprattutto Per la rincorsa In campionato C'è anche da dire Che è un giocatore Da me odiato Perché A parte la risatina A me a Cerbi Non è mai piaciuto Proprio come giocatore A parte la risatina Che è interpretabile No? Quella Che fa in Milan Lazio È un giocatore Che a me non piace È un giocatore lento È un giocatore Che secondo me È bravo Nel posizionamento È grintoso È bravo di testa La palla Comunque la sa calciare Ma a Cerbi È un giocatore lento Che a tre Se trova degli esterni Se trova un esterno E lo fa allargare Lo salta quando vuole Quindi Abbiamo visto Con la Fiorentina Cone ha fatto tutto quello E gli pareva Con a Cerbi Da quella parte Però C'è da dire una cosa Vedi a volte la concorrenza La fa bene Da quando c'è a Cerbi Devrai È più sul pezzo Fateci caso Da quando c'è a Cerbi Devrai È molto Ma molto più sul pezzo La concorrenza A volte Fa bene Ragazzi Per quanto riguarda Le parole di Marotta Marotta ti fa sempre Le solite supercazzo Ti fa capire Che venerdì diranno Che l'Inter È venduta È in vendita Poi ti dice Possiamo continuare Con Zhang Zhang ormai Entra allo stadio Zhang out Zhang vattene dalla curva Cosa dice Zhang Non vende Non parla mai Lui non parla mai Parla solo Quando ci sono i risultati L'Inter ha comunque Fatto un'impresa È anche vero ragazzi Dopo dopo un passaggio De turno Zhang Non può venire a dire Vendo l'Inter È normale Cioè io vi ricordo Le dichiarazioni di Toir Ha 18 giorni Dalla vendita Il Toir disse Non vendo Anzi Se c'è bisogno Faccio anche una Ricapitalizzazione Ragazzi ma Sono dichiarazioni Di facciata Cioè che Che sono poi Che combaciano molto Con la vendita Non ci vedo nulla Io capisco Il tifoso ormai Si è terrorizzato Dai cinesi Che ti dice Rimango Come rimane L'anno prossimo C'è Lo sappiamo tutti Che va via Ma anche se vogliamo Analizzare le parole Del cinese Come fa a rimanere L'anno prossimo Devi cambiare mezza squadra C'hai sei giocatori In scadenza Ha durato fatica A prendere a scelvi Fa i mercati a zero Dal 2019 L'Inter Il prossimo anno Ha più di 800 milioni Di debiti Ma come Dove vuole rimanere Per chi si sta preoccupando Lo dico Non per me Perché lo so Che va via Come fa Dove vuole rimanere Questo qui A fare i mercati a zero Vuole rimanere Ma non scherziamo Ogni anno Abbiamo fatto uno step Lui ti dice Sì Ma ogni anno Abbiamo fatto anche uno step Perché hai fatto Un altro prestito Per pagare Gli interessi Dell'altro prestito Dove Volevi andare Zang Te dovevi vendere Due anni fa Non ora Te dovevi vendere Due anni fa Zang Ma dove vuoi andare Io ti capisco Ma Sei sempre stato zitto Facevi meglio Stare zitto Ieri Che a dire Velleose A cui non crede nessuno Sicuramente ora ci sarà qualcuno Ho preso il giapponese Che dirà che Zang È la doppia Ma giusto il giapponese Lo può dire Che poi tra l'altro Lui Riesce a smettirsi da solo Per la turniera in Arabia Lui la turniera In Arabia Saudita Il giapponese Si smettisce da solo È lui Riesce a smettirsi da solo Ma anche nel ritiro In Arabia Saudita Io ho sempre detto Fortunatamente C'è il video Di venti giorni fa Non è un Non è che vuol dire L'Inter Ma è in Arabia Saudita E la compra in Sauditi Vai in America E la compro Gli americani Capito Quindi È vero Che le parole di Zang Hanno scatenato un panico Nei tifosi interisti Perché il tifoso interista Non vuole più Secondo me Essere preso in giro E ha capito Che Con i mercati a zero Fai la fine del Lecce Con tutto rispetto Per i ragazzi Di Lecce Quindi sono delle parole Di circostanza E Di un presidente Se ne sta andando via Ragazzi Ripeto Ieri abbiamo passato Una bella serata Abbiamo buttato fuori Barcellona È stata comunque Una grandissima soddisfazione Cerchiamo di addrizzare La barra Anche in campionato Te lo ripeto Io conto Due lassù in cima Lautaro E Lukaku Perché Se riescono Un attimino A ritrovare L'affiatamento Che avevano Prima E andasse via Il Belga È difficile Fermarli Ragazzi Però 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 Inzaghi Deve aggiustare La difesa Perché anche ieri Come ho detto All'inizio video Nei primi dieci minuti Soprattutto c'è stata Un'azione dove Se perdiamo palla Per tre volte In una zona Molto periodosa Loro non sanno Farsene della palla E te la rinagano Ma perché sono scarsi Queste amnesie Difensive Non te le puoi permettere Contro le squadre Di medio alto livello Perché poi Ti fanno male Quindi Bisogna registrare A tutti i costi La difesa Perché se Ad oggi Prendi diciassette golle E continui Con questo andazzo Almeno tu non faccia Quattro Cinque golle a partita Il campionato Non lo vinci Ma È molto difficile Vincere i campionati Quando Prendi tutti Questi golli Quindi ragazzi Vediamo domani Cosa succede Vediamo domani In questa conferenza stampa Cosa diranno Te lo dico subito Non mi meraviglierei Se fossero ribadite Le parole Ieri sera Dove io vado avanti Non vendo Raddoppio Tengo Schignar Compro Neymar Non mi meraviglio di nulla Anche perché Abbiamo un esempio davanti Quello di Toir Che a diciotto giorni Dalla vendita Dice Io non vendo Anzi Metto ancora soldi dentro Quindi Calma Gesso Godiamoci la vittoria di ieri Passaggio del turno E vedrete che poi Avremo anche una società Che una proprietà Che potrà mettere Le soldi E soprattutto L'Inter tornerà Ad avere Un progetto Vincenzo E vinci Vincenzo Vincenzo è un mio amico Ci ho parlato L'Inter tornerà Ad avere un progetto Vincenzo E soprattutto ragazzi Non andremo più a giro Un piattino in mano A prendere a Sherby Caicedo E chi più ne ha Più ne venta Ciao Inter Vincenzo